Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e bentornati qui sul mio canale. Oggi parliamo di 4Dig Partition Manager, che è un software molto utile che vi consente di gestire le partizioni a livello proprio software del vostro PC e trasferirli tutti in un unico blocco, come se faceste un grande e unico backup in un nuovo SSD. Nel momento in cui, ad esempio, vogliate aggiornare l'hardware del vostro PC, renderlo più performante, più rapido, con più capienza a livello di gigabyte e quindi avete questa possibilità e non dovete necessariamente trasferire i file singolarmente. Perché questo software 4Dig Partition Manager trasferisce e migra da un SSD vecchio ad un SSD nuovo, sistemi operativi, applicazioni, tutti i tipi di documenti, account e impostazioni personali, che è una cosa molto utile perché potete andare a riprendere tutte le configurazioni che avete già fatto senza dover ripristinare tutto da capo, ripersonalizzare tutte le vostre opzioni preferite. Vi ritroverete tutto quanto copiato esattamente come lo avete nel PC con SSD vecchio. Con questo programma ridimensionate, eliminate, create, rinominate, formattate delle intere partizioni e decidete come gestire meglio il vostro sistema operativo e tutti i vostri file, tutto quello che c'è al suo interno. Vi lascio il link in descrizione per scaricare gratuitamente la versione di prova di questo software, poi potete decidere se acquistare la versione completa. Andiamo invece a vedere nel dettaglio come funziona. Davvero molto semplice, in pochissimi click, pochissimi passaggi, potete clonare l'intero disco rigido del vostro vecchio PC sul nuovo andando semplicemente a selezionare il nuovo SSD. Ok ragazzi, una volta che avrete installato il software, il link come detto prima in descrizione, avrete due opzioni, migrare il sistema operativo o gestire le partizioni all'interno del vostro disco. In questo caso io ho inserito un disco esterno SSD di mano, come vedete qui in sovrimpressione, da 500 GB, mentre il disco 0 da 256 è quello che c'è all'interno del mio PC Windows, che sto utilizzando in questo momento, dove il disco C rappresenta l'unità che mi interesserebbe migrare nel nuovo SSD, perché al suo interno c'è tutto questo sistema operativo con tutte le opzioni, i dettagli, i file, tutto quanto copiato e incollato alla perfezione. Come è riportato qui nella schermata principale, sono due i semplici passaggi che dovrete fare. Selezionare un disco di destinazione su cui desideri migrare il sistema operativo e tutto il software attualmente presente e effettivamente andare a scegliere il disco di destinazione su cui migrare il tutto. In questo caso per prova ho inserito l'SSD esterno che ho a mia disposizione, dove gestisco tutti i miei file esterni, soprattutto video e foto. In questo caso io non cliccherò sul pulsante inizio perché non voglio fare questa migrazione, ma sappiate che è davvero semplicissima, perché una volta che andrete a cliccare su inizio vi faccio vedere dal sito ufficiale che effettivamente l'unica cosa che andrà a dirvi il software è che la migrazione del sistema è riuscita. Quindi effettivamente quello che dovrete fare è modificare l'ordine di avvio del BIOS sul PC nuovo, sull'hardware nuovo e far partire questo SSD dove avrete installato il sistema operativo del vecchio, presente nella vecchia memoria, nel vecchio hard disk, magari più lento e meno capiente. Semplicissimo ragazzi, tutto questo in pochissimi passaggi. In un attimo avrete tutto quanto in maniera sicura e soprattutto con grande rapidità. Quindi se avrete dubbi su quello che vi ho detto, anche se è davvero molto semplice, lasciatemi un commento. Mi raccomando ragazzi, è molto importante per creare questa e mandare avanti questa community. Per qualsiasi cosa chiedetemi e vi saprò rispondere sul software. Io in questo concluso, noi ci sentiamo ad un prossimo video. Ci vediamo. Alla prossima. Ciao.